Il montaggio di strumenti e le posizioni in strumento sono due operazioni molto importanti. Dopo controllare le strumenti, sono installati in CNC. Poi le strumenti già in strumento strumenti saranno controllate dall'operatore. Quale strumento deve essere nel contatto per essere installato nella strumento strumento strumento. Un montaggio potrebbe creare situazioni pericolose. Il servizio di strumento consiste in una ruota e permette il posizionamento di 16 strumenti. Un armi di spindola prende la strumento da una copia di caccia e lo posiziona nella strumento. Le strumenti che prendono dalla strumento sono inseriti nell'ultimo spazio. Cada strumento ha un codice di referenza perché non hanno le stelle stelle. Quando le strumenti cambiano la posizione, c'è una lista che registra la nuova posizione. Per cambiare la strumento nella strumento, è necessario scrivere il codice M6 e T, seguendo con il numero della strumento necessario. C'è un altro codice T9999 che permette di nonostare la strumento. C'è un codice M6. Per cercare nella strumento della strumento, dovete leggere il codice di referenza. Poi dovete scrivere in sequenza il codice TX e M6, per dare il CNC la ordine di legare la strumento nella strumento. Secondo, dovete activare la moda di continuo movimento, chiamata la strumento. Grazie. 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 Grazie a tutti.